A parte il mio lavoro che ha più impatto è sicuramente la capacità di ascolto dell'esigenza dei clienti, essere il loro punto di riferimento. Perché ci affida i suoi problemi, le sue preoccupazioni, perché lo aiutiamo a realizzare i suoi sogni, i suoi progetti e questo mi fa stare bene. Quando i clienti decidono di affidare i loro progetti a Generali Italia insieme andiamo a costruire un percorso, ad aprire delle strade. Generali agisce con progetti concreti e rilevanti e questo fa sì che si posizioni realmente come partner di vita non solo delle persone ma anche della comunità. Il ruolo sociale e attuale dell'assicurazione nella vita quotidiana delle persone. Affinché quello che è un'esperienza negativa possa trasformarsi invece in un episodio positivo. Ci siamo occupati di progetti che riguardano la sicurezza stradale e i nuovi tipi di mobilità come per esempio il car sharing, monitorando lo stile di guida delle persone al fine di migliorarlo e garantire delle stranarità positive per tutta la comunità.